...definitivo vediamo come sollevano in questa prima cosa che è molto divertente, tra l'altro però crede perché quindi dovrebbero andarsi meglio. Partiti! E in vantaggio Authorizer Cadot davanti a Superlibrano, Bridge e Poseidon e Tender Fantasy. Dopo 200 metri di corsa in leggero vantaggio Authorizer Cadot davanti a Superlibrano, Tender Fantasy e Bridge e Poseidon. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Authorizer Cadot davanti a Tender Fantasy, Superlibrano e Bridge e Poseidon. Poco prima dell'ingresso in dirittura, posizioni invariate con Authorizer Cadot davanti a Tender Fantasy, Superlibrano e Bridge e Poseidon. I cavalli entrano in dirittura con Authorizer Cadot in vantaggio lungo la corda davanti a Tender Fantasy, Superlibrano e Bridge e Poseidon. E sempre in leggero vantaggio lungo la corda Authorizer Cadot davanti a Bridge e Poseidon, Superlibrano e Tender Fantasy. Allunga Authorizer Cadot davanti a Bridge e Poseidon e Superlibrano. E facilissimo Authorizer Cadot davanti a Bridge e Poseidon e Superlibrano. Grazie. 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 Grazie.